Ieri era la Pierburg, oggi è la Yokohama, domani chissà. Cambiano le aziende, ma il timore è lo stesso, che le multinazionali sbarcate in Abruzzo con tante promesse si limitino poi a vivacchiare lasciando nel cassetto i piani industriali più ambiziosi. Sono ormai tante le vertenze aperte o che potrebbero aprirsi e tutte finiscono inevitabilmente sul tavolo dell'assessore regionale Mauro Febbo. I grandi brand arrivati in Abruzzo con la gran cassa dell'arrembaggio si sono ritrovati troppo spesso a fare indigestione di ammortizzatori sociali. Il mondo globale purtroppo porta questi risultati, in questo momento la guerra dei Dazi e altre problematiche chiaramente creano momenti di difficoltà che si affrontano. Oggi in assessorato a Pescara due riunioni per altrettanti campanelli d'allarme, la BOL, ex multinazionale delle lattine, e la Yokohama, colosso giapponese specializzato in tubi petroliferi offshore, entrambe con sedi nella provincia teatina. Oggi nei due incontri abbiamo avuto dei chiaroscuri, nel senso che per quanto riguarda la vertenza BOL siamo riusciti a strappare dopo un confronto piuttosto serrato ed una chiusura almeno iniziale ad una trattativa di poter offrire alla ditta acquirente, perché in questo caso abbiamo un acquirente, un momento di confronto per trovare la ricollocazione degli ex dipendenti BOL. E questa è una parziale soddisfazione, vediamo a che cosa porterà questo confronto. Mi sembra invece molto migliore la situazione di Yokohama, di Ortona, dove c'è indubbiamente un obiettivo da raggiungere, che in questo momento ancora è raggiunto, però parlare di licenziamenti o di chiusura credo che sia ben altra cosa. Altri segnali positivi sono arrivati dall'incontro di ieri sulla situazione alla Pierborg di Lanciano. L'annuncio di nuove commesse in arrivo, con la conseguente prospettiva di riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali, ha rinfrancato gli animi. Tuttavia è certo che per rendersi attrattivi nei confronti di chi dà lavoro, bisogna pensare anche alle infrastrutture. Sicuramente, però vorrei aggiungere che adesso si sta finalmente realizzando l'ultimo tratto della Fondo Valle Sangro. Stiamo lavorando bene, credo, sulla ZES che ci dà la possibilità di offrire ai mercati anche un'economia avvantaggiata rispetto a degli incendivi. Io credo che stiamo andando verso quella direzione. Abbiamo ritardi che sono stati accumulati negli anni, purtroppo, nei porti che sono diventati tutti insabbiati. Dobbiamo sbloccare, ma almeno in termini di risorse, e ci siamo riusciti, dobbiamo sbloccare e far partire i cantieri. Grazie a tutti.